Presepe Vivente a Teggiano, giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione promossa dal parroco Don Giuseppe Puppo e dall'Associazione Cattolica Parrocchiale si concluderà il giorno dell'Epifania, con un corteo che si snoderà attraverso la piazza principale di Teggiano, che partendo dalla chiesa di Sant'Andrea, terminerà nel suggestivo chiosco di San Francesco. Le immagini che stanno scorrendo si riferiscono alla prima uscita del Presepe Vivente, svoltasi la sera del 27 dicembre scorso, alla quale hanno partecipato tantissimi figuranti, nonché un numeroso pubblico di fedeli, che hanno assistito alla rappresentazione. Il parroco, insieme ai giovani dell'Associazione Cattolica Parrocchiale, invitano i fedeli alla rievocazione dell'arrivo dei Re Maggi, fissata per il 6 gennaio alle ore 18.